La misura del reddito di cittadinanza nasce con una specifica finalità di sostegno delle persone più bisognevoli di reinserimento nel mondo del lavoro. In sostanza è una misura basata su principi di equità e solidarietà sociale. L'indagine, condotta dal comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti, è stata strutturata per confrontare le singole posizioni delle persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza con la compatibilità rispetto a determinati requisiti che sono imprescindibili. Il dato finale, in Abruzzo e Molise 1,9 milioni di euro indebitamente percepiti, somme già somministrate, già erogate ma che in linea teorica non andavano corrisposte alle persone che ne hanno beneficiato. I nuclei familiari controllati sono stati 6.445 che corrispondono a 10.000 persone. Le persone deferite all'autorità giudiziaria sono state 319, di cui 163 sono censite in banca dati, ovvero con precedenti a vario titolo di natura penale. Il generale Paolo Aceto, comandante del comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti. Generale, è stata un'attività intensa, molto complessa, quasi 2 milioni di euro indebitamente percepiti tra Abruzzo e Molise? Sì, è stata veramente un'attività intensa, prolungata perché ha coinvolto tanti carabinieri per mesi e mesi e il risultato per l'Abruzzo e Molise di 1 milione e 9, quasi 2 milioni di somme indebitamente corrisposte. Il dato relativo all'Abruzzo? Guardi, tendenzialmente poco oltre la metà di quest'unione e 9, quasi poco oltre un milione, è concentrato sulle province abruzzesi. Ci sono anche dei casi particolari, autonoleggiatore, anzi una donna? In quel caso sì, parliamo di una donna titolare di un'esercizio, un'attività di noleggio autoveicoli. Ci sono molte cose che fanno forse sorridere se uno non pensa invece al danno che la cosa determina. Quindi abbiamo cittadini extracomunitari che non sono in regola con i requisiti previsti dalla normativa, in questo caso per il soggiorno. Ci sono persone che dimenticano di dichiarare mariti che magari sono ristretti e in alcuni casi anche coinvolti in indagini su associazioni di natura mafiosa. Altre persone che non ricordano di essere proprietari di più di immobili, di un certo numero di immobili. Non sempre si tratta di semplici dimenticanze, ma sono vere e proprie dimenticanze dolose. L'attività, prima di chiudere, non riguarda i lavoratori in nero che eventualmente abbiano percepito il reddito di cittadinanza? Per i lavoratori in nero stiamo avviando una serie di approfondimenti perché proprio essendo attività in nero non risulta facilmente quantificabile poi l'eventuale importo di redditi terzi. Però non possiamo escludere che tra le persone che hanno percepito il reddito possa esserci qualcuno che abbia delle fonti di reddito non dichiarate, ecco su quelle stiamo lavorando nel qual caso si avvieranno tutta una serie di verifiche e ulteriori accertamenti.